Il tema del contrasto del dissesto idrogeologico è al centro dell'agenda politica del Governo sin dal suo insediamento. Il 25 maggio 2014 il Governo ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, con il compito specifico di imprimere un'accelerazione all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di supportare la nuova programmazione di risorse per il ciclo 2014-2020. Per le stesse finalità il cosiddetto Decreto Competitività, il DL91, ha affidato la responsabilità della realizzazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari straordinari delegati, attribuendo loro la titolarità delle relative contabilità speciali, oltre che importanti poteri sostitutivi e di deroga.